C'è un'azienda che potrebbe subentrare al Carrefour nel centro commerciale San Nicola e tra le interessate a quanto pare c'è la Coop. I contatti ci sono stati ma la trattativa è ancora tutta da chiudere. Lo hanno scoperto gli ex lavoratori della catena francese di supermercati licenziati lo scorso gennaio e che sono tornati a protestare davanti al comune di Termoli con un presidio per chiedere risposte a una politica che a loro dire li ha dimenticati. Simbolicamente hanno chiesto le dimissioni del Consiglio Comunale che sette mesi fa ha votato una delibera con cui si impegnava in cinque punti nessuno dei quali è stato portato avanti. Settanta degli ex lavoratori sono in cassa integrazione straordinaria fino a febbraio con uno stipendio ridotto al 60%. La solidarietà è insostenibile, sono passati tanti mesi e non è arrivata nessuna risposta concreta. Ora c'è l'ultima che dice che il centro commerciale San Nicola riaprirà nella sua piattaforma alimentare dal 10 di dicembre cosa che secondo me è assolutamente non vera. Noi restiamo qui perché l'unico interesse è quello di dare la possibilità a questi lavoratori di riprendere la loro occupazione. È chiaro che non saremo assolutamente disposti a nessun gioco strano. Per noi devono ricominciare a lavorare così come impegno di tutto il Consiglio Comunale che ha votato all'unanimità un documento, devono ricominciare a lavorare gli ex lavoratori del Carrefour. La notizia dell'interessamento di un'azienda che avrebbe chiesto anche una riduzione della superficie commerciale è stata data dal Vice Sindaco Enzo Ferrazzano che ha illustrato in un incontro con i lavoratori i costanti contatti con il nuovo gruppo che gestisce il centro San Nicola e che sta portando avanti la trattativa per la piattaforma alimentare. Intanto la scorsa settimana l'assessore è stato anche in Regione all'ANAS per sollecitare un cambiamento della viabilità all'ingresso del centro con la realizzazione di una rotatoria.